Quanto costa non leggere un golf cart qui a Olbosch? Ve lo dico alla fine del video. Guido io? Ok, si parte ragazzi. Pronti? Vamos! Capri! Ragazzi sono arrivati indietro. Stiamo costeggiando il mare, super wide. Guarda che spettacolo. Abbiamo parcheggiato le nostre golf cart qui, adesso faremo il bagno. Guardate non c'è nessuno, pace assoluta. Guardate che bella questa spiaggia, piena di conchigliette. Wow! Acqua, vabbè, acqua è trasparente, è un spettacolo. Olbosch! Il costo è di un'ora 350 peso, circa 15 euro, due ore 600 peso, circa 30 euro, quattro ore 1000 pesos, che sono circa 50 euro.